Video numero 28 dedicato al calcolo dei limiti. Vedremo in questo video dei limiti che hanno un parametro da discutere. Il primo esercizio dice determinare al variare di n dei numeri naturali il limite per x che tende a 2 di x meno 2 elevato a n fratto x al quadrato più 3x meno 10. Ora come prima cosa qui scomponiamo il denominatore. Abbiamo il termine noto, sappiamo, è il prodotto delle radici e il coefficiente del termine di primo grado che è l'opposto della somma. Essendo il termine noto negativo i due numeri hanno segno alterno, cioè uno è positivo e uno è negativo e questi due numeri possono essere o meno 5 più 2 o 5 meno 2 che danno entrambi prodotto meno 10. Però visto che la somma deve essere meno 3 sarà la prima coppia. Infatti meno 5 più 2 è meno 3 e quindi ci scriviamo che x1 è uguale a meno 5 e x2 è uguale a 2. Riscriviamoci il limite. Il limite per x che tende a 2 di x meno 2 alla n fratto x meno la prima radice, quindi x più 5, per x meno la seconda radice, quindi x meno 2. Ora abbiamo un fattore comune tra numeratore e denominatore. possiamo procedere alla discussione dell'esponente n. Primo caso. Partiamo da 0. Se n è uguale a 0 il limite diventa limite per x che tende a 2 di x meno 2 alla 0 è 1 fratto x più 5 che moltiplica x meno 2. In questo caso facendo tendere x a 2, quindi sostituendolo, abbiamo 1 fratto 5 per 0, cioè 1 fratto 0, cioè infinito. Secondo caso. Se n è uguale a 1, il limite possiamo riscriverlo come limite per x che tende a 2 di x meno 2 fratto x più 5 per x meno 2. Procedere alla semplificazione del fattore x meno 2 e ottenere, quando x è uguale a 2, 1 fratto 2 più 5, cioè 1 settimo. Terzo caso. Se n è maggiore di 1, il limite è limite per x che tende a 2 di x meno 2 elevato a n fratto x più 5 per x meno 2 uguale. N maggiore di 1 significa 2, 3, 4, 5, eccetera. Proviamo a sostituire 2, quindi n uguale a 2, il limite diventa limite per x che tende a 2 di x meno 2 al quadrato fratto x più 5 per x meno 2 uguale. Semplifichiamo e abbiamo 0 fratto 7, cioè 0. Per ogni n maggiore di 1, perché questo succede anche per n uguale 3, 4, eccetera, il risultato sarà sempre 0. E questi sono i tre casi che si possono incontrare. Ricapitolando, se n è uguale a 0, il limite vale infinito. Se n è uguale a 1, il limite è finito e vale un settimo. Se n è maggiore di 1, il limite è finito e vale 0. Secondo esercizio, determinare a variare di n appartenente sempre ai numeri naturali, il limite per x che tende a più infinito di x meno 2 alla n fratto x al quadrato più 3x meno 10. Quindi abbiamo la stessa funzione dell'esercizio precedente, questa volta x sta tendendo a più infinito. Abbiamo scomposto già il denominatore, quindi sappiamo che il limite lo possiamo scrivere, limite per x che tende a più infinito di x meno 2 elevato alla n fratto x più 5 per x meno 2, che possiamo ancora scrivere portando il fattore x meno 2 al numeratore, limite per x che tende a più infinito di x meno 2 alla n meno 1 fratto x più 5. Ora, visto che x sta tendendo a più infinito, dobbiamo confrontare i gradi di numeratore e denominatore. Anche qui possiamo avere tre casi. Primo caso, se il grado del numeratore è maggiore del grado del denominatore e al denominatore abbiamo grado 1 e quindi se n meno 1 grado del numeratore è maggiore di 1 grado del denominatore e questo significa n maggiore di 2, il limite vale più infinito. Quindi possiamo scrivere che f di x tende a più infinito quando x tende a più infinito. Secondo caso, se il grado del numeratore e il grado del denominatore sono uguali, cioè se n meno 1 è uguale a 2 e questo significa n uguale a 1, il limite è finito e vale come il rapporto tra i coefficienti dei gradi massimi. Quindi in questo caso avremo che la funzione diventa x meno 2 fratto x più 5, scriviamocelo, f di x è uguale a x meno 2 fratto x più 5 e il rapporto tra i coefficienti dei gradi massimi è 1, quindi f di x quando x tende a più infinito è uguale a 1. Terzo caso, se il grado del numeratore è minore del grado del denominatore, cioè se n meno 1 è minore di 1, cioè se n è minore di 2, f di x vale 0. Quindi, ricapitolando, se n è maggiore di 2, il limite è più infinito, se n è uguale a 1, il limite è finito e vale 1. Se n è minore di 2, il limite è ancora finito e vale 0. Prossimo esercizio, determinare k in modo che il limite per x che tende a k, scriviamoci il limite, quindi il limite per x che tende a k di x quadro meno 4x meno 5 fratto x meno k esista finito. In corrispondenza di questi valori di k, calcolare il limite. Allora, anche in questo caso procediamo alla scomposizione preliminare del numeratore. Meno 5 è il termine noto, è il prodotto delle radici. Meno 4 è la somma cambiata di segno. E qui le radici possono essere o meno 5 più 1 o 5 meno 1, che danno come prodotto entrambe 4, ma la seconda coppia, 5 meno 1 da 4, che è meno 4 cambiato di segno. Quindi x1 è uguale a meno 1 e x2 è uguale a 5. Riscriviamoci il limite. Limite per x che tende a k di x meno la prima radice per x meno la seconda radice fratto x meno k. Visto che x sta tendendo a k, possiamo discutere quello che succede quando k è uguale alle radici del numeratore. Primo caso, k uguale a meno 1. Se k è uguale a meno 1 possiamo riscrivere il limite come limite per x che tende a meno 1 di x più 1 che moltiplica x meno 5 fratto x meno meno k, quindi x più 1. E questo è uguale. x più 1 e x più 1 si semplificano e otteniamo meno 1 meno 5 che è uguale a meno 6. Vediamo cosa succede. Secondo caso, quando k è uguale a 5, abbiamo limite per x che tende a 5 di x più 1 che moltiplica x meno 5 fratto x meno 5. In questo caso, il fattore che si semplifica è x meno 5 e otteniamo 5 più 1 che vale 6. determinare k in modo che il limite per x che tende a 2 di x quadro meno 5x più k fratto x quadro meno 4 esista finito. In corrispondenza di questo valore di k, calcolare il limite. Allora, qui possiamo partire dal fatto che a numeratore, avendo un trinomio di secondo grado, meno 5 dell'addendo di primo grado è uguale alla somma delle radici cambiata di segno. Visto che x sta tendendo a 2, possiamo calcolare l'altra radice facendo riferimento a questo 2 come prima radice. Quindi scriviamocelo se meno 5 è uguale a meno s, e con s intendo la somma, appunto, come detto, delle radici del trinomio, abbiamo che s è uguale a 5, somma delle radici uguale a 5. Se 2, cioè il valore a cui sta tendendo x, è la prima radice, cioè x1 uguale 2, l'altra radice sarà x2 5 meno 2, cioè 3. In questo modo il prodotto delle radici è uguale a 2 per 3, cioè 6. Sostituisco a k6, cioè pongo k uguale 6, e calcolo il limite. Il limite per x che tende a 2 di x, scriviamocelo già fattorizzato, cioè x meno 2 per x meno 3, fratto x meno 2 per x più 2, avendo a denominatore una differenza di quadrati. A questo punto semplifico x meno 2 tra numeratore e denominatore, e otteniamo 2 meno 3 a numeratore fratto 2 più 2 a denominatore, vale a dire meno 1 fratto 4, cioè meno un quarto il valore del limite quando k vale 6. Vediamo l'ultimo esercizio per questo video. Ci dice determinare a e b in modo che il limite per x che tende a più infinito di x quadro più x più 1 fratto 2x meno 1 meno a x meno b sia uguale a meno 1. Bene, come prima cosa sommiamo tutti i termini della funzione argomento del limite, quindi minimo comune multiplo 2x meno 1, abbiamo x quadro più x più 1 meno, raccogliamo a fattor comune un meno a x più b che moltiplica 2x meno 1 uguale meno 1. limite per x che tende a più infinito di x quadro più x più 1 meno 2 a x quadro meno a x per meno 1, quindi più a x meno 2bx meno b per meno 1, quindi più b fratto ancora 2x meno 1 uguale meno 1. Sommiamo i termini simili e abbiamo limite per x che tende a più infinito di x quadro 2 a x quadro, raccogliamo x quadro a fattor comune e abbiamo 1 meno 2a che moltiplica x quadro. Poi abbiamo x più a x e meno 2bx, facciamo la stessa cosa, raccogliamo a fattor comune x e abbiamo più 1 più 1 più a meno 2b per x e come termine noto rimane b e 1, quindi più b più 1 fratto 2x meno 1 uguale meno 1. Ora, visto che x sta tendendo a più infinito, il limite per essere finito deve avere grado del numeratore uguale al grado del denominatore. Visto che il grado del denominatore è 1, cioè abbiamo 2x, deve scomparire il grado del numeratore 2. Significa che il coefficiente del grado 2, cioè 1 meno 2a, deve essere uguale a 0. Questa è la prima condizione che possiamo scrivere. 1 meno 2a uguale a 0 significa a uguale a un mezzo. Come detto, questa è la prima condizione affinché il limite venga finito. Ora, affinché venga meno 1, i coefficienti dei gradi 1, perché rimane 1 più a meno 2b e 2x, dicevo, i coefficienti dei gradi che rimangono devono essere uguali e opposti. Quindi, la seconda condizione, prendiamo il coefficiente di x, cioè 1 più a meno 2b, deve essere uguale a meno 2, l'opposto del coefficiente di primo grado del denominatore, che è 2. Ora, visto che a è uguale a un mezzo, possiamo sostituirlo, e 1 più un mezzo meno 2b deve essere uguale a meno 2. Questo significa meno 2b uguale a meno 2, meno 1, meno un mezzo, cioè meno 2b uguale a meno 3, facciamo tutti i passaggi, meno un mezzo, cioè ancora meno 2b uguale 2 per 3, 6, meno 6, meno 1, meno 7, mezzi. Quindi, in definitiva, dividendo per meno 2, abbiamo che b deve essere uguale a 7 quarti. E quindi abbiamo determinato a uguale a un mezzo e b uguale a 7 quarti, come richiesto dall'esercizio, affinché il limite abbia valore meno 1. Ora, per verifica, andiamo a sostituire i valori trovati, e quindi possiamo riscrivere il limite per x che tende a più infinito di... Il termine di secondo grado si annulla, quindi non lo riscriviamo. Abbiamo 1 più a, che è un mezzo, meno 2 per 7 quarti x più 7 quarti più 1 fratto 2x meno 1 uguale. Il limite per x che tende a più infinito di 1 più un mezzo meno 2 per 7 quarti è meno 2, e quindi meno 2x più 7 quarti più 1 è 7 quarti più 4 quarti, cioè 11 quarti fratto 2x meno 1. x sta tendendo a più infinito, in questo caso dobbiamo controllare le potenze di grado massimo, le potenze di grado massimo sono meno 2x e 2x, e sappiamo che se queste sono uguali il limite è finito e vale come il rapporto tra i coefficienti appunto dei gradi massimi, quindi meno 2 fratto 2, cioè meno 1. Abbiamo verificato che a uguale un mezzo, b uguale a 7 quarti sono i valori che rendono meno 1 il limite della funzione assegnata. Bene, per questo video finiamo qui. In basso a destra trovate il tasto per iscrivervi al canale, attivate la campanellina in modo da essere aggiornati automaticamente sulla pubblicazione dei prossimi video. Se il video vi è piaciuto e soprattutto se vi è stato utile mettetemi anche un like e vi ringrazio, condividete i vostri social così che potremo aiutare più persone possibili e anche far crescere il canale, perché no? In descrizione i miei contatti, email, instagram, facebook. Grazie, un saluto a tutti e alla prossima.